A Verona una fiera dedicata al golf, uno sport sempre più popolare in Italia. Si può giocare anche senza spendere troppo, l'inviato Massimo Mignanelli. È divertente, si sta all'aria aperta. Distoglio il pensiero da tutte le altre cose, ti concentri solo su quello. Quanti anni hai? 12. E quando inizia a giocare a golf? A 4 anni. Uno sport che appassiona sempre più persone, che inizia a piacere anche giovanissimi. A Verona più da lunedì c'è il Salone Nazionale del Golf, parola d'ordine lo costa. Scopriamo infatti uno sport sempre meno delitta e sempre più popolare. Insegnano nelle scuole, vanno sui campi da golf a praticare, c'è una diffusione che sta colpendo tutti. Ed allora vediamo come risparmiare, a partire dall'attrezzatura. Sacca che comprende tutte le attrezze che servono, tutti i 14 bastoni. Prezzo indicativo siamo intorno ai 300 euro. Nasce anche Golf Low Cost, un sito per spendere poco. Per i neofiti ci sono dei corsi di formazione di ovviamente al golf, di 10 lezioni, tutto compenso, che partiranno da 150 euro. Un golf club può anche costare come una palestra o un circolo di tennis, 500 euro l'anno. Pensate che gli italiani che praticano il golf sono passati da 13.000 del 1980 agli oltre 100.000 del 2010. Le donne sono circa 30.000 e da spingere il movimento ci sono i campioni come i fratelli Molinari, il 17enne Matteo Manassero. Una grande fortuna che è girare il mondo giocando a golf. E non dimentichiamo che è uno sport per tutte le età. Il golf si può giocare dall'età di 8 anni fino all'età di 80 anni e questo per chi vuole praticare un'attività fisica è un elemento importantissimo.